Sul circuito dell'autodromo di Montlery per il gran premio dell'Automobile Club di Francia. Le Alfa Romeo pilotate da Nuvolari e Chiron, le Mercedes e le Auto Union appaiono subito le più agguerrinte competitrici. Sui primi 1500 chilometri si è svolto un serrato duello a tempo di primato tra il nostro Nuvolari e Caracciola sul Mercedes che si è aggiudicato facilmente alla vittoria dopo che il suo competitore fu costretto a ritirarsi al quattordicesimo giro. Grazie a tutti! Grazie a tutti!